Dalle frequenze di Radiomatte proseguiamo i nostri programmi con Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio, in diretta dal Cufra di Sommariva del Bosco, in provincia di Cugno. Auguriamo tutti voi un buon ascolto e diamo subito alla linea al sociologo Fabrizio Gagnor per l'introduzione. Amici cari ben ritrovati, un caro saluto da Fabrizio Gagnor che vi parla, insieme con coloro che sono presenti con me questa sera. Ci sono due psicologi, la dottoressa Giulia Marzola e il dottore Carlo Piancastelli, poi c'è il signor Luca che porterà la propria testimonianza. Questa sera ci occupiamo per la terza puntata e con questo concludiamo questo ciclo, col quale abbiamo parlato della manipolazione degli altri, manipolazione psicologica, affettiva. Già il termine stesso dice molto manipolare, lo dice già la parola stessa, manipolare gli altri. Nella prima puntata ci siamo fermati sull'aspetto di che cosa sia la manipolazione psicologica, come si manifesta, quali sono le modalità con le quali si manipolano gli altri e che cosa fare quando ci si accorge. E su questo non ritorniamo questa sera. La seconda puntata era dedicata al manipolatore, vedere un po' di fare un identikit. E allora avevamo visto qualcosa su quali siano le tipologie dei manipolatori, come è mascherato il manipolatore degli altri, perché si diventa manipolatori, come si comporta chi è manipolatore degli altri, cosa c'è nella testa di un manipolatore. Questa sera, in questa terza puntata su questo tema, ci soffermiamo sul chiederci come ci si possa accorgere di essere vittime di manipolazione e che cosa fare. Io vorrei dirvi qualcosa in merito, come sempre sapete bene che lo spazio a noi dedicato è bello che sia condiviso con tutti voi ascoltatori attraverso le vostre riflessioni, le vostre esperienze. Allora vi anticipo già fin d'ora che dovete prepararvi a intervenire dicendo quali sono le vostre eventuali domande ai nostri ospiti. Sapete bene che per comunicare una forma semplice, efficace di mandare i messaggi. Mandate i vostri messaggi perciò a Radiomater al 331-791-4523 Se volete scrivere le vostre email per interloquire con gli ospiti scrivete a diretta chiocciolaradiomater.org Poi apriremo anche le telefonate e vi darò il numero da comporre che peraltro già ben conoscete. Allora adesso proviamo a vedere qualcosa sulla vittima. Sapete bene che nei luoghi di cura del Cufrad ci si occupa dell'accoglienza e della cura delle persone che soffrono di problemi di dipendenza patologica da sostanze o da comportamenti. Quindi il tema della manipolazione è molto presente sia nell'aspetto di chi si è trovato a essere manipolatore di altri sia chi è stato vittima di manipolazione da parte di altri sia da parte di chi alternativamente ha vissuto una o l'altra condizione. Vorrei però introdurre la trasmissione calandola in una parentesi è solo una parentesi poi la lasciamo lì che poi ognuno ci pensa perché noi parliamo della manipolazione nella relazione tra le persone individuale, tra gli individui o con un piccolo gruppo ma esiste da sempre nel mondo il pericolo di essere vittime di manipolazione anche quando si parla di popoli di grandi numeri perché vi dico questo? Ci stiamo avvicinando alla Santa Pasqua domenica celebreremo la Domenica delle Palme ricordando come il popolo osannava l'ingresso del Signore in Gerusalemme e tutti erano trascinati in questa consapevolezza della divinità del Signore il Messia ma nei giorni successivi intere masse sono state vittime di manipolazione e nel corso della Settimana Santa ci troveremo a leggere la Passione del Signore dove molte di quelle stesse persone che pochi giorni prima osannavano l'ingresso del Signore in Gerusalemme si saranno diciamo così che è efficace girati al contrario questo per dirvi con un esempio che ci è molto di aiuto che il problema della manipolazione riguarda tutti e tutte le epoche della storia forse anche l'attuale nei tempi di guerra basta ricordarsi la storia che si è studiata è vero? dove ci si continua a chiedere che cosa mai abbia potuto portare interi popoli ad avere delle convinzioni che non avevano un fondamento né scientifico né di altro genere pensate cosa è successo nella seconda guerra mondiale no? pensate allora vedete che quando parliamo di questi argomenti si riguardano ognuno di noi si riguardano la relazione con gli altri però dobbiamo avere gli occhi ben aperti perché noi siamo in cammino come amministratori del corpo che ci ha affidato sapete siamo anime che da Dio veniamo e al termine di questo pellegrinaggio terreno ritorneremo a Dio e dobbiamo usare bene il tempo che ci è dato usarlo bene perché è come una clissidra che di giorno in giorno inesorabilmente fa scendere la sabbiolina dalla coppa che c'è in alto a quella che c'è in basso noi vediamo solo la coppa che c'è in basso giorno e notte giorno e notte la sabbiolina che c'è in basso aumenta ma noi non sappiamo quanta ne rimane nella coppa che c'è in alto e siamo preparati possiamo dire con serenità di vivere la vita senza distrazioni per la nostra anima come si dice al giorno d'oggi di fare la cosa giusta ma chi è che può dirlo e cerchiamo cerchiamo di sapete il signore dice siate semplici come le colombe ma prudenti e prudenti prima di tutto con noi stessi perché è così facile farsi prendere dalle cose di questa terra che se ne scappano via il tema della manipolazione ha a che fare anche con questo stare attenti ai condizionamenti che riceviamo perché lo ripeto soltanto enunciandolo perché ogni tanto ne parliamo noi sapete bene che abbiamo l'apprendimento sensibile cioè i nostri sensi captano onde elettromagnetiche prendono e buttano dentro al cervello che costruisce una memoria di quello che percepiamo e noi abbiamo una memoria che si imprime di convinzioni ma che veramente non è che siano la verità qui entriamo nel tema della manipolazione dipende pensate la pubblicità pensate i mezzi di comunicazione pensate anche soltanto semplicemente quando guardate il telegiornale non è che quella sia tutta la verità magari sono cose vere ma dipende da che cosa vogliono dirci quali sono le cose che non ci vengono dette anche se esistono ce ne dicono solo alcune notizie quali ci danno per prime quali ci danno per dopo quale estensione viene data qual è una montagna di tecniche qual è la tipologia della della voce andate avanti voi come ti viene data l'immagine tutto il resto in questo la radio già che siamo a Radio Mater ci aiuta un po' perché sapete che la radio aiuta a filtrare ciò che viene trasmesso in modo più libero perché l'immagine ci trascina via è vero è vero voi provate a non so a quelle a cui piace il calcio non è nostra consuetudine ma so che a moltissime persone piace ed è bello anche che piaccia sentire alla radio o vederlo no la percezione fatevi questo esempio sto parlando di come si è manipolati condizionati beato chi ci dice il Vangelo sa ritornare bambino e provate a darvi la risposta qual è la la caratteristica di un bambino di un neonato e di essere ancora libero dai condizionamenti non è ancora stato manipolato o è difficile uscire dalla manipolazione molto molto allora io in dieci minuti eh dodici vi dico qualche cosa rispetto alla alla vittima della manipolazione per quello che si può in questi pochi minuti e poi ascolteremo i nostri ospiti che ci porteranno esperienze di come nella loro attività clinica aiutano e accompagnano le persone a diventare consapevoli di essere stati manipolati e come diventare liberi e voi sapete ancora citando il Vangelo conoscerete la verità e la verità vi farà liberi anche se la verità è come una ferita talvolta lacerante ecco quindi i nostri ospiti ci parleranno di come il coraggio della verità e di guardarla in faccia diventa importante allora vedete amici cari io volevo dirvi tre categorie di cose ma faremo quello che possiamo la prima cosa che volevo dirvi è quali sono le caratteristiche psicologiche delle vittime della manipolazione emotiva e vengono proposte da uno studio che vi presento cinque caratteristiche poi volevo parlarvi dei tre livelli della manipolazione e poi quali sono le conseguenze quindi dieci segnali che si è stati vittima di manipolazione facciamo quello che possiamo vero con calma allora ci diceva la terapista californiana specializzata in relazioni tossiche quindi di manipolazione malata Sherry Stein dice così la manipolazione è una strategia psicologica utilizzata da persone spesso impegnate in una relazione tossica incapaci di chiedere ciò che vogliono e di cui hanno bisogno in modo diretto vuol dire che chi manipola gli altri è perché ha un problema ecco le persone che manipolano e cercano di controllare gli altri pensate a livello di macro e a livello di massa a livello di popoli la strategia della paura dell'inquietudine e ci siamo dentro ci siamo dentro è una manipolazione rispetto alla quale tutti dovrebbero avere gli occhi aperti la strategia della paura e se mai succedesse che l'obiettivo del manipolatore è avere il controllo sugli altri perciò lo psicoterapeuta psichiatra Lowen dice che la manipolazione il bisogno di controllo sugli altri ha la stessa funzione del potere proteggersi dalle proprie fragilità quindi chi manipola gli altri è maniaco del controllo e adesso scendiamo nella relazione per prima cosa è uno che controlla se stesso nega i propri sentimenti cerca di controllare le situazioni nelle quali è coinvolto e che gli altri non abbiano potere su di lui allora deve cercare degli interlocutori che siano sottomessi oppure impauriti impauriti la strategia della paura andate avanti voi mentalmente su tutti i collegamenti che potete fare anche a livello di quello che sta succedendo nel mondo oggi le vittime le vittime percepiscono di non essere più padrone della propria libertà che non possono fare ciò che vogliono si convincono che senza chi ha il potere di controllo loro non ce la fanno ma ci pensate che succede la loro autostima si abbassa diventano insoddisfatti tristi depressi può essere il singolo ma può anche essere una società che si avvilisce per la paura pensate pensiamo allora che succede che chi è vittima di una manipolazione giustifica addirittura perché diventa sempre più fragile il manipolatore perché dice è certo che allora lui deve fare il controllo perché se c'è questa situazione di paura così grande se il pericolo è così grande allora io devo appoggiarmi a questo che può diventare una figura forte o pensate al passato un dittatore forse neanche tanto il passato quanto abbiamo da imparare è inutile cercare di cambiare il manipolatore o pensare di curarlo cosa bisogna fare bisognerebbe mostrare indifferenza verso le minacce implicite o esplicite del manipolatore indifferenza a quel punto lo si smonta pensate a livello di relazione o ancora una volta vi ripeto a livello del clima storico in cui stiamo vivendo o quello del passato se chi si accorge rimanesse andare avanti senza paura a fare la sua strada ma tutti allora chi ha bisogno di manipolare gli altri si sentirebbe smontato non avrebbe più lo strumento perché non avrebbe nessuno che gli sia sottomesso ma perché invece purtroppo la strategia della paura continua a funzionare con rischi enormi perché più il manipolatore vede che funziona e più la graverà vero esatto le persone che tendono a diventare vittime possono essere sia quelle particolarmente sensibili emotivamente fragili persone insicure che hanno paura di essere incapaci attenzione che hanno paura di non farcela allora cercano qualcuno a cui appoggiarsi ma un'altra categoria di vittime della manipolazione possono essere attenzione qui persone benestanti o società che veramente hanno tutto che possono essere con una rete sociale buona situazioni economiche solide che scatena paure per poter svuotare l'altro capite ottenere potere controllo denaro eccetera allora ci sono le cinque caratteristiche siccome i minuti scorrono allora io ve le enuncio e poi lascio la parola ai nostri ospiti le cinque caratteristiche psicologiche la prima la paura di una apocalisse emotiva che vuol dire paura dell'abbandono la paura di essere abbandonati o non approvati allora che succede quando viene scatenata questa paura dell'abbandono chi è manipolato fa di tutto per non essere abbandonato allora l'altro gli scatena le paure e il manipolato accetta qualunque offesa reagisce fa di tutto a paura che il manipolatore arrivi alle critiche distruttive arrivi alle previsioni catastrofiche utilizza una grammatica linguistica contro il manipolatore guardate che la grammatica del linguaggio è importantissima noi non ce ne accorgiamo ma dipende da come le cose ci vengono presentate da come ci vengono dette è proprio vero i sociologi del linguaggio hanno approfondito questa tematica delle strategie di comunicazione individuali o di massa al punto che scatenano nell'interlocutore la previsione catastrofica e utilizzano gli ideali riuscendo a demolirne il fondamento vi faccio un esempio per non essere generico pensate a quello che venivano definiti una volta i valori cioè qualcosa in cui la gente crede adesso è molto difficile parlare di questo perché viene messo in dubbio tutto voi pensate agli argomenti di cui si tratta nei mezzi di comunicazione in questo tempo ma ma ci pensate ma ci pensate come sta cambiando la grammatica del linguaggio dei concetti dei valori ma chi è che voi vi chiedete ma chi è che ce li trasmette così è veramente parte dalla base o forse da quelle elite culturali che usano una strategia di comunicazione con la quale si manipola la massa al punto tale che si diventa una massa informe che non ha più idee e quando si diventa una massa informe che non ha più idee la si indebolisce è vero non ha più valori si è diventati deboli è facile manipolarli e perché quando si diventa deboli si comincia ad aver paura di tutto come si diceva una volta anche della propria ombra è vero e beh allora amici cari secondo caratteristica delle vittime la vittima del manipolatore sente il bisogno di avere l'approvazione da parte di chi ha il potere di chi controlla perché lo idealizza perché è fragile no vedete stiamo andando avanti nel ragionamento siccome è fragile deve appoggiarsi e allora vuole avere l'approvazione e allora cerca un rapporto fusionale che vuol dire a critico non valuta non pensa più vedete le masse che nel tempo sono state manipolate e il rischio enorme nel tempo storico che stiamo vivendo è che questo si ripeta il rischio è che si ripeta perché la fragilità prima avete capito prima abbatti i valori crei un senso di vuoto di si vaga nella confusione e quello è il momento perché tutti diventano deboli e allora cercano qualcuno di forte nel quale identificarsi terzo elemento le vittime del manipolatore questo è un elemento un po' alattere che dice che sentono percepiscono il disagio e sono pronti a qualunque cosa purché quel disagio cessi allora bisogna che qualcuno dica attenzione attenzione che c'è una situazione catastrofica allora c'è bisogno che tutti si sacrifichino diciamo così perché c'è è scoppiato un problema capite anche se il problema non ci fosse stato e concludiamo quarto elemento e qui stiamo chiudendo il cerchio quelle vittime del manipolatore non hanno più autostima per i motivi che abbiamo detto hanno la tendenza ad appoggiarsi ad altri si convincono ogni giorno di più di non potersela cavare da sole e quindi quinto elemento vulnerabilità legate al contesto perché ci sono situazioni contingenti reali o che vengono create artificialmente in modo tale che il contesto non possa far altro che accrescere la debolezza di una persona o della massa e allora così debole cerca chi la controlli attribuendo potere e dando fiducia anche a quelle ombre che ci si convince che siano veramente delle cose terribili pensate e con questo lascio il microfono ai nostri ospiti che cosa vuol dire nella vita dei singoli nelle famiglie nei gruppi il problema della manipolazione e di esserne vittime allora ricordatevi cominciate a scrivere le vostre considerazioni parliamo della manipolazione di quando uno si è accorto di essere vittima di manipolazione oppure abbia avuto la consapevolezza il suo malgrado di essere stato manipolatore di altri e scrivete le vostre domande i vostri pareri per i nostri ospiti i due psicologi la dottoressa Giulia Marzola e il dottore Carlo Piancastelli sono qui per rispondervi per i vostri messaggi 331-791-4523 ripeto scrivetevelo il numero per i vostri messaggi 331-791-4523 scrivete per le vostre email a diretta chiocciola radiomater.org e per telefonare in diretta 031-646-000 ascoltiamo la psicologa dottoressa Giulia Marzola buonasera a tutti sono contenta di essere qua questa sera a parlare di questo argomento che veramente tocca molto il nostro lavoro quotidiano la vittima della manipolazione emotiva affettiva e il manipolatore io credo che siano due facce della stessa medaglia ho sempre bisogno di di dare delle immagini ai concetti agli argomenti alle dinamiche e veramente me li immagino in questo modo come una monetina con due facce e ognuna delle due facce ha bisogno dell'altra per esistere il manipolatore ha bisogno di una persona fragile con una scarsa autostima che ha paura di essere abbandonata per poter esercitare il suo ruolo per poterla manipolare al tempo stesso la persona con una personalità fragile che ha paura di essere abbandonata che ha poca autostima ha bisogno di qualcuno esterno da sé che la che la conduca che le dica come comportarsi cosa fare da cui si senta anche guidata qua in struttura noi possiamo vedere entrambi questi aspetti sappiamo bene che la manipolazione è un atteggiamento molto tipico molto diffuso nelle persone che hanno avuto e hanno problemi con le tossicodipendenze e che sono abituate a utilizzare il prossimo attraverso i mezzi a propria disposizione per ottenere la sostanza per portarlo al proprio obiettivo al tempo stesso abbiamo avuto e abbiamo ancora in struttura diverse persone soprattutto donne che hanno avuto problemi di dipendenza affettiva e che tendono a legarsi in modo morboso a un compagno di gruppo piuttosto che a una figura professionale proprio perché hanno difficoltà a mantenere il centro su se stesse quindi il lavoro che facciamo è su due piani questa sera ci stiamo concentrando di più sul versante di chi è vittima di una manipolazione emotiva e i lavori che vengono proposti sono su diversi piani sono state elencate le caratteristiche di una persona che può diventare vittima di manipolazione emotiva che sono la paura dell'abbandono il desiderio di un rapporto simbiotico la mancanza di autostima e la vulnerabilità al contesto queste sono tutte caratteristiche che possono portare una persona anche ad avvicinarsi al mondo delle dipendenze proprio perché magari la persona da cui sono manipolate fa uso di sostanze e quindi per essere accettate per essere amate si trovano anche loro a fare uso di sostanze il lavoro sull'autostima si fa in diversi modi e viene portato avanti attraverso diversi strumenti alcuni sono per esempio il canto e il teatro sono delle attività che vengono proposte che vengono svolte in gruppo con l'aiuto degli operatori in cui i pazienti hanno modo di sperimentarsi in attività e ruoli che non hanno mai avuto all'esterno e spesso riescono a scoprire delle delle attitudini delle caratteristiche personali che prima non avevano attraverso il teatro possono impersonificare dei ruoli diversi da quelli che hanno avuto in passato e provare quindi le emozioni connesse a dei ruoli differenti un altro strumento che che mi viene in mente che ritengo molto utile è proprio la strutturazione del percorso di cura in livelli i primi livelli del percorso terapeutico sono più incentrati sulla persona sull'individuo sull'elaborazione del proprio passato sulle proprie difficoltà ma a mano che si va avanti nel percorso a livelli le mansioni le responsabilità le responsabilità insomma sono più legate al rapporto con l'altro tanto che ad un certo punto del percorso le persone si recano in altri gruppi di cura per aiutare proprio i pazienti al momento del loro ingresso funzionano un po' da tutor i livelli ogni livello ha degli obiettivi da raggiungere e vengono anche fissati una sorta di esami in cui i pazienti si danno dei rimandi attraverso anche l'aiuto degli operatori per capire se quegli obiettivi sono stati raggiunti sicuramente per fortificare l'autostima di una persona fragile e un po' traballante serve molto essere consapevole di darsi degli obiettivi e piano piano riuscire a raggiungerli io credo che sia fondamentale riuscire a essere permeabili al contesto in cui si è inseriti ma non fare le spugne il gruppo aiuta molto in questo probabilmente è uno dei sensi della comunità degli obiettivi del percorso comunitario essere inseriti in un gruppo vuol dire essere influenzati anche dai propri compagni di gruppo da quello che loro pensano quindi è importante attraverso l'aiuto dell'equip terapeutica sviluppare un proprio pensiero una propria autonomia di pensiero consapevoli dei pensieri dei propri compagni ma senza farsi influenzare o portare su strade diverse che sono contrari alla natura di una persona io darei la parola a questo punto al dottor Piancastelli grazie sì buonasera a tutti è un piacere essere qui oggi non ho tanto da aggiungere a quello che ha detto la dottoressa Marzola se non andare un po' ad analizzare un po' più a fondo in termini psicologici appunto queste due figure che sembrano così distanti fra di loro ma in realtà sono accumulate tutte e due da una fragilità dell'io di fondo in che senso allora da una parte abbiamo appunto la vittima di manipolazione affettiva che presenta nella maggior parte dei casi tratti di dipendenza affettiva quindi una persona che ha un io fragile un io che per un motivo o per l'altro nell'infanzia non è stato riuscito a essere nutrito e quindi cerca nell'altro questo investimento che in realtà avrebbe dovuto fare lui stesso nel corso della sua storia evolutiva a questa situazione si aggancia il profilo invece del manipolatore che quindi lo stesso ha una fragilità dell'io di base molto forte che va invece ad incastrarsi in una maniera diversa ossia andando a sminuire l'altro appunto appiattire l'altro in modo da nutrirsi lui invece di queste nutrirsi di questa di questa grandiosità il concetto paradossalmente appunto sta che tutte e due vengono accomunati da questa fragilità dell'io e se da una parte abbiamo tratti di dipendenza affettiva dall'altra abbiamo tratti di personalità narcisistica la personalità narcisistica la conosciamo quindi questo senso di grandiosità questo senso di superiorità che in realtà nasconde un io fragile un io debole che ha bisogno di questa corazza per appunto non non tirar fuori la parte sensibile la parte debole di sé quando nelle relazioni affettive nel nel multicolore delle relazioni affettive questi due profili si incastrano diciamo si trova proprio l'incastro perfetto perché da una parte c'è una persona che ha bisogno di il dipendente affettivo che è vittima di manipolazione ha bisogno di una personalità forte accanto a lui che prenda delle decisioni anche per lui perché il dipendente affettivo non prende responsabilità delle proprie decisioni dall'altro invece abbiamo il narcisista che non cerca altro che quindi appena vede dei piccoli pertugi su cui può inserire e battere il colpo subito riesce ad incastrarsi a incastrarsi concretizzando questo discorso un po' nella realtà che vediamo tutti i giorni qui al Kufrad anche qui secondo me abbiamo un punto in comune importante che è lo scoprire dare la possibilità ai nostri utenti di scoprire se stessi scoprire le proprie passioni quindi se da una parte il dipendente affettivo non vuole prendersi la responsabilità delle proprie passioni a volte proprio non sa neanche che cosa gli piace fare nella vita abbiamo visto un sacco di utenti qua al Kufrad e quindi il lavoro è più nell'accompagnarlo passo a passo per fargli scoprire le sue passioni attraverso le diverse attività che ha spiegato prima la dottoressa Marzola ma anche proprio attraverso un costante lavoro quotidiano di proprio far emergere far emergere la personalità e rinforzarla rinforzarla in quei tratti che sono tipici della persona dall'altra parte invece il lavoro che facciamo con chi ha tratti più narcisistici quindi chi ha tratti più di manipolatore è sbilanciare questi tratti quindi persone che si atteggiano con questo senso di grandiosità che comunque sono sempre qui al Kufrad e quindi hanno lo stesso valore lo stesso peso specifico di chi invece è dipendente affettivo sminuire un po' questo senso di grandiosità quindi più di una volta mi è capitato di sentire storie di sentire racconti io ho fatto ho fatto chissà quali peripezie ho condotto una vita grandiosa ho fatto questo ho fatto quell'altro e il nostro lavoro è comunque accompagnarlo senza giudicare perché comunque ritengo una personalità del genere lo stesso è una personalità in sofferenza quindi che ha delle difficoltà che comunque l'hanno portato a condurre una vita distruttiva per lui quindi senza giudicare ma accompagnarlo nel un po' falsificare questa storia che racconta agli altri ma che alla fine racconta anche un po' se stesso e quindi è proprio è proprio un bellissimo tema quello che è stato scelto per oggi perché sono due personalità che magari vediamo totalmente diverse totalmente agli antipodi ma che in realtà hanno ripeto questo io questo senso di fragilità dell'io in comune molto 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 forte grazie allora ricordatevi cari amici stanno arrivando le vostre domande per i nostri ospiti adesso ascolteremo la testimonianza del signor Luca e intanto ricordatevi per i vostri messaggi scriveteli così gli ospiti vi risponderanno il numero è 331 791 45 23 ripeto 331 791 45 23 per le vostre email diretta chiocciola radiomater punto org per telefonare in diretta 031 64 600 ascoltiamo Luca buonasera a tutti vi ringrazio per questa bellissima esperienza ringrazio il pubblico che ci segue niente io vorrei parlare di una mia potrei parlare di una mia esperienza in cui sono stato la vittima di una donna che mi ha mi ha manipolato io ho avuto una relazione mi sono incastrato con una persona che mi ha manipolato dal primo giorno lei questa cosa io ho iniziato a capirla dopo qualche mese che l'ho fidanzata insieme a lei perché ha iniziato a ad avere bisogno sempre di conferme di di messaggini di di sapere dove sto come sono vestito con chi stavo e era diventato ormai una cosa una cosa impossibile fino a quando poi ho deciso di di troncare questa questa relazione lei non aveva più il potere su di me quindi ha iniziato a a triangolare quindi a cercare altre persone per farmi per farmi sua quindi è arrivata anche a farmi delle dichiarazioni contro di me alle forze dell'ordine per potermi chiudere agli arresti domiciliari in casa con lei pur di non farmi non farmi stare con altre persone per rendermi sua diciamo qui in comunità si si lavora tanto sulla sulla dipendenza affettiva sulla manipolazione e io diciamo che è da un anno che sono qui in comunità e ormai ho iniziato la scuola di responsabilità sono sono al quinto livello e ormai sono il tutor anche di di persone che sono appena arrivate e si vedono questi meccanismi un po' di manipolazione le volte sono coscienti di manipolare l'altro di triangolare per arrivare all'obiettivo alle volte è proprio un meccanismo che hanno che hanno appreso ma dalla famiglia o che si è innescato in loro per delle per dei motivi insomma quindi devo stare attento io a fermare questi questi comportamenti alle volte lo fanno con me per la sigaretta per il caffè per raggiungere lo scopo per avere più terapia cercano anche di manipolare me e devo bloccare questi meccanismi qua che li fanno sentire poi diciamo persi perché sono abituati a fare così e non hanno nuovi nuovi meccanismi meccanismi che poi ritrovano all'interno della comunità grazie allora ascoltiamo queste domande intanto c'è una persona che ci scrive chiedendo di ricordare a tutti gli ascoltatori a tutti noi di pregare per coloro che hanno problema di alcol di dipendenza da alcol e qualche persona che non si firma ma che ci chiede probabilmente è accanto a qualcuno che ha il problema dell'alcol o lo vive direttamente ci chiede di essere uniti al cielo affinché lo spirito santo dia forza della verità e della guarigione poi ci sono delle domande cominciamo con la prima che faccio ai nostri ospiti così è giunta è scritto come si fa a capire di essere manipolati a me sembra che non sia una cosa facile da capire ascoltiamo i nostri ospiti io credo che le indicazioni per capire di essere vittima di una manipolazione arrivino possano arrivare sia dall'interno della propria persona che dall'esterno dall'interno nel senso che credo che il nostro corpo la nostra mente ci manda dei segnali ogni volta che siamo vittima e che stiamo perdendo la nostra autostima stiamo perdendo la nostra solidità il contributo che ci possono dare gli altri soprattutto persone che ci conoscono bene che possono notare dei cambiamenti in noi è sicuramente fondamentale ho ricordo di una nostra ospite che è stata qua un po' di tempo fa che ha sempre avuto problemi di dipendenza affettiva e in comunità durante il percorso ha sviluppato una dipendenza nei confronti di un altro ospite si è invaghita si è innamorata e piano piano ha cominciato a sciuparsi mentre prima cercava di essere curata si truccava di colpo ha smesso aveva l'aria trasandata aveva sempre lo sguardo un po' perso triste e faceva fatica a rendersi conto di quello che le stava succedendo però con l'aiuto degli operatori che si sono accorti di quello che si stava innescando e soprattutto del gruppo in cui era inserita è riuscita a mettersi in discussione è riuscita a capire cosa stava succedendo e a mettere in atto delle strategie per tirare fuori le proprie risorse per rendersi conto che non aveva bisogno di quell'altra persona che lei era entrata per fare un percorso di cura per se stessa ci scrive Valeria e Valeria scrive così buonasera mi sembra di capire che il manipolatore sia un grande conoscitore delle emozioni umane anche se le usa male a proprio vantaggio forse inconsapevolmente e chiede Valeria ma si può aiutare chi è manipolatore a usare questa sua dote capacità per essere di aiuto agli altri anziché far loro del male ascoltiamo dottor Piancastelli allora parto rispondendo alla gentile ascoltatrice con una premessa questa domanda se la fanno tutte le vittime di manipolazione quindi è possibile cambiare il mio compagno è possibile cambiare il mio amico la possibilità c'è serve un lavoro naturalmente specializzato un lavoro clinico non è una questione che si può fare all'interno della relazione quindi se la domanda la nostra gentile ascoltatrice la sta porgendo nel senso di posso cambiare la persona che ho a fianco a me dei manipolatori la risposta è no la risposta è bisogna salvaguardarsi e quindi uscire il prima possibile accorgersi dei campanelli d'allarme che avete detto bene precedentemente uscire il prima possibile da questa relazione per quanto riguarda invece un lavoro un po' più specializzato e strutturato qua qui al Kufrad ne abbiamo visti mi viene da sorridere guardando la dottoressa Marzola ne abbiamo visti tanti di manipolatori ed è vero sono proprio dei profondi conoscitori emotivi è molto bello anche relazionarsi con queste persone perché ti capiscono perché ti senti ti senti anche accolto ma il punto sta nel fine della relazione quindi il manipolatore appunto si chiama manipolatore perché utilizza le emozioni dell'altro a proprio vantaggio quindi è un fine strumentale e non è appunto non è un sociopatico per questo il sociopatico è una persona che sfrutta l'altro ma con una freddezza emotiva molto molto prominente quindi il manipolatore ha questa capacità di del sentire caldo quindi del sentire le emozioni nell'altro che è da una parte positiva dall'altra negativa nel senso che è negativa per la vittima perché finché rimane nel suo manipolare la vittima ha difficilmente scampo perché la vittima si sente proprio capita quindi ha proprio questo conforto che cerca soprattutto se ha tratti di dipendenza affettiva dall'altra è positiva perché la capacità empatica secondo me è una capacità fondamentale che noi cerchiamo tanto di far valere qui all'interno della comunità quindi il lavoro che si può fare con un manipolatore da un punto di vista più strutturato è quello che facciamo anche noi qui al Kufrad è andare ad agire sul fine della relazione quindi la relazione non deve avere per forza un fine strumentale un beneficio un costo e un guadagno ma la relazione può essere anche esatto fine a se stessa il piacere di stare con l'altro semplicemente per stare con l'altro quindi il lavoro che si può fare con questi profili di personalità è accompagnarli nel riscoprire il piacere della relazione nell'utilizzare anche questa loro spiccata abilità capacità empatica nel per stare accanto all'altro e per dare appunto quel supporto che può dare comunque una soddisfazione molto importante io avrei un'ultima cosa da aggiungere a cui stavo pensando già ieri quando ho saputo il tema di questa radio di questo incontro ho visto un film qualche anno fa è un film del 2003 che si chiama Ti do i miei occhi e ve lo vorrei sinceramente consigliare perché è molto profondo è un film molto crudo ci sono alcune scene che danno proprio fastidio a vederle racconta di una relazione fra un uomo e una donna che sono sposati e lei è vittima di violenza domestica e si vede nel dettaglio il legame che si è creato il legame che l'uomo ha instaurato nei confronti di sua moglie per manipolarla per tenerla a casa per maltrattarla e fa vedere molto bene l'oscillazione che spesso c'è in relazioni tossiche malate di questo tipo cioè si passa dall'idealizzazione della persona alla svalutazione completa con agiti anche aggressivi io ve lo vorrei lasciare come consiglio e spero che vi possa piacere questa visione amici cari ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi ci stiamo avvicinando alla santa pasqua quindi auguro a me per primo e a tutti voi di vivere con devozione la settimana santa e prepararci bene a una santa pasqua senza dimenticarci che questo cammino sulla terra è un passaggio perché rischiamo che gli eventi della vita ci facciano dimenticare il motivo per cui stiamo camminando è vero le preoccupazioni gli affanni le necessità quotidiane ebbene il prossimo incontro con il Kufrad sarà giovedì 20 aprile perché settimana prossima sarà giovedì santo e quindi ci ritroveremo cari amici giovedì 20 aprile sempre alle 17 e 30 grazie per essere stati con noi io vi invito se volete riascoltare la presente trasmissione e le precedenti ad andare sul canale youtube Kufrad centro di cura su quel canale troverete sia le trasmissioni ma anche tante altre testimonianze video i video che preparano i gruppi di cura e sono tutte occasioni per imparare a conoscere noi stessi e a relazionarci con gli altri c'è molto da imparare tutti abbiamo da migliorarci ecco perciò ve lo consiglio proprio se volete anche utilizzare la pagina facebook Kufrad news su alcol e droghe e il sito kufrad.it e Santa Pasqua a tutti amici e col canto finale restituisco la linea alla regia centrale grazie grazie a tutti